e buongiorno a tutti eccomi qua allora vi volevo raccontare una cosa siccome una di voi ciao Mara una di voi mi ha scritta ma perché tu non fai una live io ho risposto quando me l'ha scritta io l'ho risposto poi dopo ieri che sono arrivata a casa c'era un caldo ho detto ma quasi quasi sono andata a informarmi una cattiva notizia ci vogliono mille iscritti per fare una live niente ho detto allora niente continuo a registrare siamo ancora un po troppo un canale ancora un po troppo piccolo ecco per fare certe cose e niente oggi sono adesso sono già alle nove e mezza io alle dieci e mezza un appuntamento poi oggi pomeriggio vado a lavorare comunque sì abbiamo pochissimo tempo cosa facciamo oggi? se quando vuoi è un pochissimo Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info questa verdura qua non ho comprato mi l'hanno dato mi viene dal porto di cugino di Andrea allora ieri sera ho lasciato il bagno con acqua così evitiamo comprare anche la verdura il bagno con acqua il bagno con acqua il bagno con acqua Grazie a tutti Grazie a tutti Ho tutte queste miele qua che ormai stanno andando male sapete cosa facciamo Grazie a tutti Grazie a tutti Se vuoi che si attacca Tutte le volte che si attacca Tutte le volte che si attacca Eccoci qua ci siamo sbarazzate anche le miele Questo qua l'ho comprato A Lidl Questo spreme è di Silgercrest di marca di Lidl Grazie a tutti Grazie a tutti Quanto ce l'ho un po' di frutta o verdura che non so non faccio la torta Adesso è troppo caldo per fare la torta Tipo le mele Non sapevo come fare Non voglio accendere il forno adesso con questo caldo qua Faccio il sugo qua faccio il sugo di carota di carota di carota di carota di carota che fa benissimo Questo qua l'ho comprato Questo qua l'ho comprato L'ho detto prima Ho comprato a Lidl Anni fa ce l'avevo un altro Però era più piccolo Quando comprate queste cose qua guardate la grandezza La grandezza di questo tubo qua praticamente Dove entra frutta verdura Perché se è troppo piccolo Dove tagliare in pezzetti molto piccoli Questo non l'ho pagato tantissimo L'avevo comprato qualche anno fa Ma prima del lockdown questo qua Ed è buono Cioè avevo un altro Cioè avevo un altro piccolo Dovevo tagliare a pezzetti Era più piccolo Dovevo tagliare sempre a pezzetti molto piccoli Perché non entrava dentro Cioè ci metto dopo il tempo Il risultato è sempre quello Così avete visto la metà di mela Vabbè la mela non è grandissima Però in due parti o quattro parti se mi era molto grande Entra anche le carote entrano qua Prima quando c'erano quella più piccola Anche le carote ho dovuto tagliarle A pezzetti molto più piccoli Questo qua non ha costato tanto Non mi ricordo neanche cosa costava Però è buono L'unica cosa è che tutte le volte che poggio Si appiccica Vabbè che è fatto apposta Però si appiccica lentissimo Queste qua si appiccicano Appoggio un attimo appoggio Se sono già appiccate Così tirate via anche le mela Così tirate via anche le mie E qua è un bel succo E qua è un bel succo Eccoci qua Noi abbiamo già mangiato Adesso lavo i piatti E dopo vado a lavorare Ho preparato anche la cena Scusate non ho inquadrato Perché ho avuto poco tempo Allora ho fatto tutto di fretta La lavo tutto a mano la vastoviglia la accendo proprio non so tipo se devo incominciare a lavorare a luna abbiamo mangiato a mezzogiorno non ce la faccio lavare i piatti allora faccio partire la vastoviglia ma pochissime volte veramente veramente poche volte faccio queste cose poi se no lavo tutto a mano intanto ci mettiamo due minuti stamattina sono andata dal dentista ogni tanto faccio un controllo una volta l'anno asciugo sempre tutto anche quando faccio scolo a piatti qua asciugo anche io asciugo tutto mi tengo qua perchè sono più comodo però l'asciugo tutto se non ho aspartato tutto a 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 il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti Grazie a tutti Ho finito tutti i sgrasatori adesso uso solo alga alla fine preferisco andiamo una punta veloce un po' di sottotitoli Grazie a tutti 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 Ed eccomi qua scusatemi mi si è scaricata anche alla batteria Ci vediamo la prossima volta Ciao ciao